Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi voglio chiacchierare con voi, quindi non guarderemo grafici, non faremo analisi, ma vorrei chiacchierare con voi di un tema che secondo me è estremamente importante, perché leggo molti luoghi comuni, leggo molti concetti errati sul web e l'argomento è che cos'è che determina il prezzo di un asset, quindi come si muove il mercato di un qualcosa. Nel nostro caso ovviamente ci riferiamo sempre di più a bitcoin perché lo trattiamo nello specifico, ma sono discorsi che ovviamente valgono per qualsiasi mercato finanziario, che siano azioni, commodities, valute, materie prime, insomma tutto quanto si muove in base ai principi della domanda e dell'offerta. Quindi le domande in verità che vorrei porvi oggi, magari stimolandovi a rifletterci sopra e cercando di dare uno spunto per le risposte che ne potrete trarre, perché come vedrete è veramente difficile dare risposte precise a certe domande ed è questo un po' il bello del mercato, che non è predecibile. In ogni caso le domande che discendono dal nostro dubbio principale sono che cos'è quindi che innesca e genera le tendenze, quindi il prevalere dei buyers sui sellers o viceversa, che cos'è che invoglia le persone, perché poi il mercato è fatto da persone ad acquistare piuttosto che a vendere, quali situazioni li stimolano di più in un verso o nell'altro, e quindi in ultimo determinano un aumento o una diminuzione del prezzo, cerchiamo di dibatterne oggi e vorrei sentire anche il vostro parere ovviamente. Quindi se, insomma, sentitevi liberi di dare le vostre risposte alle domande che porrò oggi, i vostri dubbi e i vostri pareri, nei commenti che io leggerò e risponderò. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, lasciatemi cortesemente un bel like anche a questo video, così me lo dimostrate e mi incentivate sempre a produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale così non vi perdete i contenuti e siete i primi a vederli grazie alla notifica che vi arriva, e iscrivetevi anche al mio canale Telegram e seguitemi sui social, trovate tutti i link in descrizione. Detto questo, passiamo all'argomento di oggi, che vi voglio introdurre con una storia che ho letto su un libro inerente al trading e all'investimento. Penso che sia un mito, però dicono che sia basato su fatti realmente accaduti. Parla di un trader di valute estere, un tale chiamiamolo Jimmy, che arriva sempre presto, nella sua trading room, al mattino, in una banca o quello che è nell'istituzione. Lui ovviamente è un trader molto facoltoso. Arriva lì prima perché così si legge i giornali, l'economist, va a cercare un po' di notizie, cerca di capire un po' come si aprirà la sessione londinese, ovviamente perché lui è inglese, del mercato. E una bella mattina appunto va lì, nella sua trading room, legge l'economist e vede una notizia positiva sullo yen giapponese. Vede che il Giappone vuole alzare i tassi di interesse, vede che comunque l'import-export è ai massimi storici, che sta adottando una politica economica fiorente e quant'altro. E allora decide di acquistare lo yen in grandi quantità. Quando arrivano, iniziano ad arrivare i suoi colleghi, gli va a dire ma guardate ho visto questa cosa, queste notizie, insomma io ho acquistato buone quantità di yen. E allora anche loro acquistano quantità grandi di yen, perché ovviamente sono tutti dei trader molto facoltosi, che operano per fondi, insomma muovono milioni e milioni di dollari. E allora niente, tutti che acquistano lo yen e cosa succede? Il prezzo inizia a salire. Dopo che si sparge la voce nella trading room in cui si trovano del discorso di acquistare lo yen, perché qui perché lì poi intanto vedono il prezzo iniziare a salire, allora tutti quanti lì in quella trading room iniziano ad acquistare lo yen e sale ulteriormente ovviamente il prezzo. Dopodiché la sessione apre e spalanca le porte, diciamo così, a tutti i traders della nazione di quel fuso orario e ovviamente vedendo un incremento del prezzo dello yen, allora tutti quanti si buttano dentro e acquistano anche loro cercando di seguire per l'appunto la tendenza. Alla fine della giornata loro vendono le loro posizioni long e sono tutti contenti che hanno incassato tanti milioni, quelli lì che si sono trovati nella trading room tra colleghi e vanno a casa contenti. Il capo chiama Jimmy e gli dice complimenti Jimmy, come insomma hai operato bene oggi, ma cos'è che ti ha spinto a fare questa operazione qui? E lui fa e ho letto sull'Economist questa cosa, insomma mi ha spinto, mi ha invogliato ad acquistare lo yen. E lui gli fa complimenti Jimmy, bravo bravo, ma sapevi che quella notizia lì è dell'Economist dell'anno scorso? Ecco questo secondo me è, al prescindere che sia vera o no la storia, comunque dovrebbe far riflettere su la differenza che c'è tra i veri fondamentali del mercato e come i fondamentali agiscono sul prezzo di mercato di un asset e come invece la domanda e l'offerta non sia influenzata dai fondamentali stessi. Facciamo una differenza, vi dico quella che è la mia opinione innanzitutto. Io penso che i fondamentali siano importantissimi come criterio di filtraggio, ovvero io personalmente non opero, nemmeno speculativamente, su quegli asset dei quali i fondamentali non sono solidi. E naturalmente se c'è un asset che miro ad accumulare per il lungo termine, quindi non sto parlando di trading, attenzione, ma di investimento, ovviamente sempre con un occhio sul grafico per osservare i momenti propizi o meno per l'acquisto, vado ovviamente ad investire su quegli asset nei quali credo nel lungo termine. Quindi l'importanza dei fondamentali è fuori discussione in questi termini. Però riguardo al trading, guardando dei fondamentali diversi dal fatto che magari noi crediamo bitcoin perché in futuro ci vediamo valore nella decentralizzazione, nella libertà finanziaria che porta e quant'altro, magari scendiamo più terra a terra e guardiamo appunto le notizie, piuttosto che gli eventi che accadono. Influenzano davvero così tanto il mercato nell'immediato e creano loro le tendenze oppure è qualcos'altro che le crea? Allora, le tendenze sono create e il prezzo è dato dalla domanda e dall'offerta. Quindi che cos'è che guida la domanda e l'offerta? Persone, perché siamo io, siete voi, sono gli hedge funds, sono le istituzioni, sono insomma tutti coloro che fanno parte del mercato che acquistano e vendono. Laddove domande e offerta si incontrano abbiamo il prezzo. Quindi ovviamente, questo è l'ABC poi dell'economia, laddove c'è più domanda il prezzo aumenta, laddove c'è più offerta il prezzo diminuisce. Ovviamente al crescere della domanda significa che più persone vogliono acquistare, crescere dell'offerta significa che più persone vogliono vendere. E ovviamente le due condizioni combinate esacerbano il tutto, ovvero se meno persone vogliono vendere, quindi l'offerta diminuisce, e tante persone vogliono comprare, quindi la domanda aumenta parecchio, allora il prezzo aumenta in maniera più repentina e viceversa. Qui non penso di avervi detto niente di nuovo, sono appunto i principi base dell'economia della domanda e dell'offerta. Che cos'è che fa sì che le persone vogliano acquistare di più o vendere di meno? Questa è una domanda alla quale secondo me è veramente difficile dare risposta. Io credo che i fondamentali e le notizie non influenzino la domanda e l'offerta in maniera diretta. Perché? Vi faccio un esempio. Adesso al di là della storia di Jimmy che comunque appunto divulgando questa notizia che poi non era reale, quindi fondamentalmente è partita come una cosa ristretta nella loro trading room, e poi dall'esterno, avendo visto generarsi un inizio di tendenza, nonostante quella notizia fosse di un anno fa, non se ne sono fregati niente, si sono buttati tutti dentro per cercare appunto di cogliere il momento che si era generato nel mercato. Questo trend rialzista nascente. Quindi abbiamo capito che ci deve essere una sorta di scintilla che fa nascere una Burran e poi ovviamente deve essere sostenuta da tutte quante le persone. Quindi quell'asset deve avere una certa liquidità, una certa capitalizzazione e deve avere una certa esposizione ovviamente nel mondo. devono esserci gli strumenti affinché le persone lo possano acquistare o vendere in semplicità. Più persone può raggiungere, più liquidità si può immettere, diciamo così, in questo asset. Il discorso sul quale mi volevo concentrare è la non correlazione diretta per l'appunto tra i fondamentali e il prezzo di mercato. Perché? Perché magari esce una notizia, supponiamo, positivissima per Bitcoin. Che ne so, esce un nuovo strumento finanziario per Bitcoin collateralizzato dai Bitcoin stessi e pertanto nuova liquidità in acquisto su Bitcoin. Ok? Quindi cosa può succedere? Può succedere che qualcuno acquista vedendo questa notizia e immaginandosi che gli altri vogliano fare lo stesso. Quindi lui vuole anticipare e acquista pensando che poi tutti acquisteranno una volta letta la notizia. Qualcun altro magari dice ma aspetto un attimo perché così qualcuno magari acquista proprio pensando che la notizia crei un pump e poi inizia a vendere. Così poi vendendo il prezzo si abbasserà perché magari altre persone venderanno dopo il pump iniziale grazie alla notizia e poi si potrà riacquistare più in basso. Vedete? Sono due visioni opposte dello stesso evento focale che è la notizia che potrebbe aumentare il prezzo e uno lo vede come opportunità di acquisto e di tenere perché il prezzo salirà. L'altro invece lo vede come opportunità di vendita ad un premium proprio grazie alla notizia. E quindi chi è che avrà la meglio? Ovviamente chi avrà maggior capitale. Quindi attenzione perché qua c'è quella divisione tra i cosiddetti smart money e dumb money che fa la differenza. ovvero se uno ha capitali maggiori e muove capitali maggiori influenzerà il mercato in maniera molto maggiore del retail trader che magari vede la notizia ci crede e compra. Mille retail trader magari fanno un capitale grande. Quindi se quel capitale grande decide di svenderci in testa allora abbasserà il prezzo così come lo possono alzare mille persone retail. E qua è la differenza nel potere d'acquisto e di vendita che ognuno ha chiaramente dipendente soltanto dal capitale. Questo è un esempio. Ma a questo poi si aggiunge tutto quello che è la speculazione. Lo capirete meglio di me se siete dentro a questo mondo da tanto tempo. Perché? Quante volte si dice di acquistare quando tutti sono in preda al panico e di vendere quando tutti quanti sono euforici? Questa è una legge vecchia come il mondo. Proprio perché così come nella storia di Jimmy quando inizia l'euforia iniziano tutti ad acquistare in preda all'euforia vedendo appunto la nascita di un trend volersi buttare dentro la paura del treno perso e quant'altro e tutti quanti acquistano. Ovviamente lì le persone furbe che già hanno acquistato prima quando il prezzo era più basso cosa fanno? Iniziano a vendere e iniziando a vendere il loro capitale che magari è molto grande inizia a saturare la domanda ok? La loro offerta prevale sulla domanda. poi la domanda si inizierà ad esaurire perché vedendo che comunque questo trend è in esaurimento a uno non viene più tanta voglia di comprare dice ma aspetta che mi fermo un attimo e quel qualcuno immaginatevelo moltiplicato per tutte le persone che pensano così perché il mercato è fatto da una moltitudine di persone e di conseguenza magari la domanda inizia ad esaurirsi e l'offerta inizia ad aumentare perché nel frattempo coloro che hanno acquistato prima magari all'inizio abbastanza presto magari durante già l'euforia però prima di questo massimo raggiunto iniziano a vendere anche loro dicendo ma io ho paura aspetta che incassi i profitti e così facendo si inizia a inizia a prevalere la svendita rispetto all'acquisto l'offerta rispetto alla domanda e il trend si inverte ok? quindi cosa succede? succede che l'offerta si esaurisce la domanda aumenta e di conseguenza si inverte il mood del mercato così facendo la disperazione poi porta coloro che hanno acquistato magari vicino al massimo a dire ma vendo perché ormai è finita questo il trend è morto è esaurito e poi che cosa succede? che tutti quanti iniziano a vendere 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 in preda alla paura finché l'offerta termina proprio perché hanno venduto tutti quelli in preda alla paura quelli interessati a vendere che hanno venduto all'inizio e cosa succede? di nuovo la domanda inizia a prevalere e parte un altro ciclo ascendente del mercato quindi secondo me il mercato è questo domanda e offerta che ciclicamente si muovono equilibrandosi e squilibrandosi perché è quello poi il bello del mercato che l'equilibrio genera comunque un prezzo che rimane in un range non si muove granché lo squilibrio invece genera un trend una tendenza ed è proprio quello che ci piace ovviamente dei mercati questa è la speculazione che come spero avrete capito è molto differente dai fondamentali perché addirittura può andare in controtendenza con i fondamentali può esserci un momento in cui le news sono più positive che mai però nonostante ciò siamo in un downtrend esagerato o il caso opposto guardate la bolla ad esempio delle dot com dell'inizio degli anni 2000 le aziende dot com le aziende high tech non è che stassero capitalizzando chissà quanto cioè nel senso di fatturare però nonostante ciò i prezzi delle loro azioni continuavano a salire 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 perché c'era aspettativa c'era speculazione e questo ovviamente può essere sostenuto fin tanto che non arriva l'offerta a sopperire la domanda e a invertire ovviamente il mood nei confronti di quell'asset lì quindi questa è la speculazione termino il discorso dicendo aggiungendo un termine un po' più tecnico diciamo anche quello in realtà non è molto tecnico ma è un gergo che si usa nel trading che è la cosiddetta greater fool theory cosa significa? significa che il prezzo continua ad aumentare di un asset fin tanto che c'è un greater fool quindi uno ancora più folle che è disposto ad acquistare ad un prezzo ancora più alto quando la domanda si esaurisce quindi non ci sono più greater fools disposti a pagare di più per quell'asset allora lì ci sarà il greater fool in assoluto che è quello che ha comprato al massimo raggiunto dall'upper shadow della candela e dopo di che arriverà l'offerta ad inondare il mercato e a invertire la tendenza e quel greater fool si renderà conto di essere quello che è spero che questa piccola digressione diciamo così un po' colorita sulla domanda e sull'offerta vi sia risultata di interesse ve l'ho detto ditemi la vostra ditemi cosa ne pensate ditemi cosa secondo noi muove il prezzo di più del resto detto questo vi saluto e mi raccomando ci vediamo mercoledì per la puntata numero 3 di trading consapevole non perdetevela e buona serata a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti